Cos'è un pop e di hardrum? Un timpano scoppiato, che è anche noto come un timpano rotto-rotto, è una lesione in cui il timpano è strappato in qualche modo. Ci sono una grande varietà di cose che possono causare questo infortunio. Alcuni di essi coinvolgono oggetti estranei che entrano nell'orecchio, mentre altri implicano cambiamenti nella pressione dell'aria. I sintomi di solito includono una diminuzione temporanea dell'udito, del drenaggio delle orecchie, del dolore e talvolta delle vertigini. Generalmente le persone si riprendono da un timpano scoppiato se seguono alcune semplici precauzioni, ma in alcuni casi i medici potrebbero dover eseguire interventi chirurgici o prescrivere determinati farmaci. Un modo molto comune per un timpano scoppiato è quando qualcuno sente un rumore estremamente forte. Questo può far vibrare il timpano in modo troppo aggressivo e farlo effettivamente strappare. A volte un timpano scoppiettato si verifica anche quando una persona ha un improvviso cambiamento nella pressione dell'aria circostante, ad esempio quando si immerge sott'acqua. Se qualcuno viene colpito con forza nell'orecchio, può anche inviare uno scoppio d'aria verso il timpano e farlo scoppiare. Altre persone feriscono i loro timpani mentre usano oggetti lunghi per pulire il cerume. L'effetto iniziale di un timpano scoppiato è generalmente un mal d'orecchi. Un altro sintomo immediato comune è il sanguinamento dall'orecchio e il drenaggio di altri fluidi. Le persone sentiranno spesso suoni, inclusi i suoni impetuosi, e potrebbero anche scoprire che non sentono molto bene dall'orecchio danneggiato. Se il danno è abbastanza grave, le persone avranno spesso problemi temporanei con il loro equilibrio. Dopo un timpano scoppiato, i medici prendono di solito alcune precauzioni per assicurarsi che l'orecchio interno della persona non abbia un'infezione batterica. Questo generalmente includerebbe l'uso di antibiotici per un breve periodo successivo alla lesione. Di solito è anche importante che le persone evitino di ricevere qualsiasi tipo di acqua nelle orecchie perché possono penetrare molto in profondità nel condotto uditivo una volta che il timpano viene sballato. Il timpano può guarire da una ferita molto grave senza altri aiuti. In alcuni rari casi, la ferita può essere abbastanza grave da non poter guarire. Quando ciò accade, è possibile per i chirurghi entrare nell'orecchio e ripararlo chirurgicamente. Il tempo normale per il timpano di guarire senza aiuto è di circa 8 settimane, anche se può variare leggermente a seconda della gravità della rottura.